Un'organizzazione per l'Unione Unite, WHO, World Health Organization, PAO, e anche un'organizzazione per l'OECD, l'Organizzazione for Economic Cooperation and Development, un'organizzazione international con tre paesi di un paese per come a desarrollare il paese lo più possibile e avere l'economia e finanziaria fattibile. E tu ti ho visto che è il tópico più importante nel momento, che il tuo paese che ha un cuido saluto, finanziariamente saluto è un hobby importante per fare in una maniera integrata che il tuo gruppo, la società sta lavorando junto, il politico sta lavorando bene, con il professionista con il bladesmacher, etc. e la linea non è comunicata bene con il altro quindi così non puoi evitare di malgastare la placa e che la placa sia usata il più efficace possibile e facendo la stazione di lante per creare la migliora calidad di cuido per il tuo popolo mi sono molto orgoglioso mi sono molto orgoglioso mi sono molto orgoglioso ma abbiamo un gruppo grande o un gruppo grande ma è un gruppo piccolo non grande di varie persone che hanno trattato la conferenza con la guia di signora Kelly Duffer che dice che ha fatto una parola poi ho spiegato un o altro di conferenza ma mi sono molto orgoglioso che abbiamo trovato buoni speaker anche a trovi abbiamo trovato speaker per esempio ma non è Meneer Keit Gert Keit che suona hollandese però è davvero rappresentata Harvard noi abbiamo il professor Stanley Lalta che è di West Indies University noi abbiamo la signora Chau che è davvero rappresentata di Parro noi abbiamo Mark Pearson che è davvero rappresentata l'OICD e noi abbiamo Mark Tosio che è davvero rappresentata l'Università dell'Oklahoma che ha un buon relazione con l'Assetfe quindi è un tremendo buon consultero che ha messo un'opinione di integrative care e noi abbiamo altri abbiamo sprecciare che è davvero di Aruba di gruppo se è davvero di Hava di hospital e anche abbiamo un best practice spiega dove spiega che non è davvero come il terreno di integrative care e noi abbiamo chiesto di corso di San Marte per fare una presentazione ma c'è un tent locale e regionale e quindi abbiamo un po' di corso che noi stiamo facendo per arrivare qui in Aruba di Lante e quindi è importante per il gruppo non viaggi e quindi noi abbiamo parte teoretica e parte merdica e parte pratica quindi abbiamo un po' di spazio e abbiamo preparato per fare un po' di critica e quindi per fare un po' di critica e quindi per fare un po' di mani una camina e per garantire al Pueblo il mio cuido